ciao buona giornata vivi nello spazio viviamo nello spazio per molti secoli qualcuno chiamato filosofo ricercatore spirituale perché secoli fa non è che c'era di non c'era grande diversità quello uno scienziato quello uno spiritualista quello filosofo c'erano dei persone anche perché non è che c'erano le librerie le biblioteche non c'erano delle persone come platone che scriveva socrate filosofo parlava ma lo scriveva allora platona scritto i dialoghi di soli poi aristotele venuto dopo pitagora che quello che ha creato la parola amore della conoscenza filosofia vuol dire amore coscienza non scriveva qualcun altro successivamente ha scritto ma arriviamo adesso ho incontrato ho letto perché mi interessa libri di fisica teorica fisica quantistica ho incontrato professori in europa in india in america professori di fisica fisica e usano ancora un linguaggio antico che è sbagliato io faccio notare ma detto il sì atomo atomo non esiste l'energia atomica esiste l'energia dell'atomo spaccato quando l'atomo viene spaccato scatena quell'energia chiamata esplosione nucleare dal nucleo atomica distruttiva bomba atomica atomo letteralmente vuol dire a non tomo non divisibile come analcolico si chiama a privativo alfa in greco privati quindi pensiamo che tutta la realtà fosse composta da minuscole particelle parti entità punti chiamati atomi poi hanno visto che l'atomo si può dividere non sto a farvi l'erco cosa c'è dentro l'atomo te lo puoi andare a scoprire insomma piero angela come c'era quark super quark e particelle tutti alcune parole neutroni protoni alcune parole di definizione di cosa c'è dentro l'atomo sono diventate un po di uso comune ma la caratteristica di chi spiega cos'è l'atomo che dice che l'atomo dicono che per il 90% è vuoto vogliamo andare a vedere cosa dice l'antica scienza spirituale o chiamata antica filosofia indiana lo spazio vuoto è pieno di energie invisibili quindi all'interno dell'atomo la cultura occidentale ha individuato alcune situazioni ma quel vuoto quel vuoto sono energie invisibili che ancora gli occidentali gli scienziati non conoscono c'è il vuoto la dicevano dicono da migliaia di anni da migliaia non da centinaia da migliaia di anni che lo spazio vuoto è pieno di energie invisibili quindi non esiste lo spazio vuoto allora nella divisione dei cinque elementi di cui noi siamo fatti terra, acqua, fuoco, aria il quinto elemento, la quinta essenza l'ettere è lo spazio infinito che contiene tutto è uno spazio interattivo che secondo lo yoga appunto lo yoga è l'antica filosofia indiana in India la chiamano sanatana dharma sanatana vuol dire eterna spiritualità sanatana dharma registra tutto addirittura quindi tutto il passato è registrato nello spazio vuoto che è pieno di energie invisibili si stanno chiedendo molti scienziati se la coscienza ha esperienze fuori dal corpo fisico quando torna, quei ricordi, quelle memorie, quelle immagini, quei suoni che ha sentito come li porta da la coscienza, come li porta da fuori dal corpo nel corpo perché ci sono alcuni scienziati che dicono che la coscienza non esiste la mente non esiste, esistono solo cellule, neuroni poi alcuni di questi scienziati hanno avuto esperienze pre morte e hanno cambiato idea da così a così no, 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 io ho fatto un viaggio fuori dal corpo ho visto altri esseri fuori dal corpo io posso dire che mi sbagliavo mi sbagliavo ci sono degli scienziati italiani e anche esteri che hanno fatto questa esperienza ma allora cosa vuol dire? queste energie invisibili sono invisibili ma reali ma invisibili a che cosa? al microscopio a questi occhi perché il microscopio è un'estensione di questi due occhi non di questo la meditazione intensa, profonda, forte estende questo occhio, il terzo occhio che poi è il primo in realtà uno, due, tre invece qui è uno, due, tre è come se il primo occhio fosse il genitore di altri due è più vecchio c'era anche prima degli altri due è come se uno incontra la madre con due figli e chiede chi ha più anni è la madre perché gli altri sono figli quindi questi due occhi sono figli di questo sono venuti dopo questo questo c'era prima quindi quello che è chiamato il terzo occhio in realtà è il primo è l'occhio che tutto vede infatti era raffigurato in un triangolo dove ogni angolo è un occhio poi sotto c'è scritto Dio ti vede Dio ti vede il triangolo con l'occhio Dio ti vede mi fa ridere perché quando avevo 8-9 anni quindi settantina di anni fa 69-70 anni fa andavo all'oratorio che c'era alla chiesa a Milano c'era un oratorio la chiesa di Santa Croce avevano messo nella sala giochi un cartello con l'occhio Dio ti vede per controllare una specie di telecamera psicologica e un mio amico compagno di scuola di classe l'ha rubato e il prete si è arrabbiato radunò tutti venga fuori e la figura si è venuta fuori anzi quello messo alla mano così disse a me se ne metto un altro rubo anche quello non l'ha più messa quindi lì veniva interpretato l'occhio il terzo Dio ti vede stai attento Dio ti vede anche nel silenzio della tua cameretta quando ti chiudi in bagno ha sempre paolo che uno toccava gli organi genitali Dio ti vede ti vede ti vede io penso che in stato di meditazione possiamo entrare in contatto con le energie invisibili di cui è pieno lo spazio chiamato vuoto è come se io ti dicessi tu stai vivendo in una realtà che conosci solo al 4% infatti la fisica quantistica dice che noi a livello sensoriale riusciamo a entrare in contatto solo col 4% l'altro 96% per il 70% pare che sia energia oscura l'altro materia oscura usano questi linguaggi oscuri dovevano dire materia invisibile energia invisibile che però produce effetti che possiamo con cui possiamo entrare in contatto anche vivendo nella materia visibile a livello sensoriale quando diciamo visibile dobbiamo dire sensoriale storicamente tutti quelli che o in meditazione o in sogno o in coma o in viaggio fuori dal corpo hanno avuto esperienze extrasensoriali sono stati combattuti e non sono stati creduti a meno che non abbiano avuto delle esperienze artistiche scientifiche o delle idee per cui hanno fatto gli scrittori o ha fatto gli artisti o gli scienziati anche hanno avuto delle visioni poi hanno aggiustato e hanno fatto delle scoperte scientifiche ricorda lo spazio vuoto è pieno di energie invisibili con cui tu puoi entrare in contatto perché queste energie invisibili sono molto forti molto potenti e sono positive ci fanno bene perché ti fanno capire una cosa che tu esistevi esisti e continuare ad esistere grazie a tutti